Tutti portiamo addosso una maledizione Non lo cura Abbiamo bbh da questo, è un guasagricchio, vedi? Sì, c'è Sì, stai facendo meglio di me Un quarto movimento There we go Vai vai, scegli, scegli te Where you want, I don't know Mmm Yeah Oh, hold it Preparatevi ad una morte certa Monti Sì Che ha meno più di uno, eh Meno più di uno Tu? Perché alcuni sono lanciati dopo, fino a un po' così Rifornimenti extra da questo Point in the case Dentro in casa, dentro, dentro Sto arrivando Siamo dentro il prossimo anello Variabile indipendente aggiunta Qui c'è un montabilizzatore canna, livello 2 Io ho repeater col... col guin testa lì E basta Super4crunch Non zambi... Eh, R99 Oh, non è una vacuola Non rilevo nessuno Prima vittima Eh, stanno vedendo qua in mezzo Di là, di là, di là Guys, guys, guys I open mid For the... For the shield, ok? Sì Grazie Vieni, vieni Vieni mid, coperto mid Abbiamo l'armatura Oh no, questo Let's push Lancio granata a frammentazione Ho avvistato un soggetto proprio qui Oh, sotto Let's go Perla 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 Non it's no allemico in front CG Quello era ultimo, è trasmesso l'equazione Vederti combatterei È un spettacolo Siamo tutti dentro la denne S'arriamo schifo Uno giù Cazzo è morto questo. È ancora vivo? È ancora vivo eh? Sì, allora c'è un altro team. Buon morto. Sono ammazzato. Sotto, sotto, sotto. Eh, non ha niente, non ha niente. Lui sta sparando... Ah, il Cargobot. Il Cargobot. Anche le silinghe. Allora, ti spiego. Quella là sulle celle di scudo, quella là che mi hai tirato tu prima, no? Nella partita di prima. E altre due batteri. Poi c'è il medikit, che è quello che ti carica tutta la vita, e poi c'è le silinghe, che è quella là che ti carica una volta la volta. Almeno quando qualcuno te la chiamo e ce la sai. Oh, io sento passi. Qua, 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 qua! Eccolo! Lo ha shot. Sta salendo? Sì, sta chocando di via il banno. Coming? Sì, l'ha già preso. Dov'è? Sta scappando, sta scappando qua dove sono io. Sì, speno. Qua, giù c'è un nemico. Sto andando a resciare. Il racing? Oggetto individuato, play. Eccolo qua. Amico individuato, in lontananza. A ver se devi fermare per resciare. Pogliono 4 secondi. A ver se lo stanno scoppiando. Uno crackato. Uno qua davanti a me. Uno crack. Uno crack. Mi sto facendo un pennex. Uno, uno. Uno sta andando per la batteria. Nel caso, come aiutami. Aiutami, aiutami, aiutami. C'è un'altra qua. Arrivò. Aspetta, aspetta, aspetta. Questi mi stanno ammazzando con delle granate di figa. Oh, ne arriva uno qua. In più. Aspetta. Arriva, ci push un altro team da qua, eh. Occhio. Aspetta. Devo curare, eh. Devo curarmi. Vieni via, vieni via, becca, becca, becca. Perché ci stiamo piastrando. Oh, ciò, 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 ciò è in open. Sì, 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 qua davanti. Sì, sì, qua davanti. Sicuramente non aveva un cazzo, questo. Dietro, dietro. Arrivò. No, no, andiamo via, andiamo via. Ruota, ruota. Arrivo. Eccolo. Ti aiuto, ti aiuto. È morto questo, eh. A te, là? Ti sei fatto, ho fatto. Vieni, 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 becca, becca. Aspetta, aspetta. Lo finisco. Mi faccio i vlush hoodie, così. Occhio, eh. Bangalore. Ciao. Ho morti. Non lo vedo, non lo vedo. No, vieni via, vieni via, vieni via. Beccan, sto beccan. Dai, dai, provo a fare di strada. C'è anche un cecchino, vieni. Andiamo qua. Here we go. It's full team fighting. What the hell? Oddio, ma quant'è c'è me, zio? Dai, non è possibile, bro. Quello è morto, eh. Quello è morto. È morto, è morto. Non ho colpi, raga. Non ho colpi. Ho un colpo di pesanti. Soggetto deceduto. Eh, devo essere due, sono le pesanti. Sto curando le mie ferite. È energetica? No. No, neanche. C'ho solo un leggerio. Uh, qua mi salvo questo. Questo mi ha pottuto completamente il coso. Questa è un caricatore leggero esteso. Caricatore, no, non è. Sto sorvegliando questa posizione. Vabbè, dai, giochiamo di Avok. Voglio andare. Sì, sì, da sopra ci sta guardando. Ma se noi andiamo a fare in culo in safe, se loro ci potono? Giocano da soli? Eh, sì, dobbiamo passare di qua. Andiamo a vederla, se c'è qualcosa. Let's go, let's go, let's go. Let's go, Silsen. Come on. He's waiting for a new Silsen. No, raga, avete preso il coso? Io non ce l'ho fatta. Pirla. Non ti fermare, corri. Non ti fermare. Ho preso il pallone, ho preso il pallone. Un minuto alla chiusura dell'anello qui vicino. Qua c'è gente, è sicuro? Hai visto gente? Sì, sì, ma dietro la montagna, eh. Non vicino, non close. Oh, munizioni flatline. Guarda, guarda quante granate. Sto tocando con un loot di merda. Beh, non ho equipaggiamento, niente. Bella quella. Potrei averne bisogno. Ma mai servono le leggere. Le leggere non ne ho viste. Ci mi sono messo malissimo. Mi servono le leggere. Wait for team di Tezza. Ma mi servirebbe quello che mi fa sparare veloce con l'Avok. Dubbo con Vessura. Divendiamo? Ah, aspetti gli altri team. Sì, aspettiamo gli altri che arrivano dalla sepa. La braglia è da di qua. Non ho mirini, non ho calcio, non ho niente. Ma che cazzo? Ma quanti erano? Non ho individuato, con un Tano. Buon pivolo. Vai, con l'Avok. Io non pingo nessuno. Eh, no, sono un don. Lui sta andando incontro. Uno in the case. Uno team. Ok, sì. Ho provato a check in armi. Wait, wait. Follow me, follow me. Arrivo. I'm coming, I'm coming. I'm coming, check in armi. I go ultimit. Uno parto, uno parto, uno parto, possiamo pushare l'altro? Da dietro, un altro team. Ci sono due. Fatti due, fatti due, fatti due. Fatti due, fatti due. Fatti due, fatti due. One team, one team. Pusha, pusha, pusha. È lì dietro il muretto. No, un altro squadro. Non si credo. Sto chiamando. Avete fatto l'ultimo? Sì, morto. Ecco il mio. Sto ricaricando gli spuri. Uso un kit felice. Dov'è la loro roba qua? Un po' di roba, figlio. No. Un po' di equipaggiamento. Questo? Dov'è l'altro? Non lo so. Stanno là sopra, gli altri. Guardalo qua, guardalo qua, guardalo qua. No, no, no. Deve l'attare. Ne ho atterrati due qui. Dove sono andati? Le casse. Non lo so. Oh, c'è la donna di là, eh. Allora, una casse, sta qua. Dov'è? Sta qua. Ah, sceso, bastardo. Eh, occhio che è un open, lì, eh. Ma ho trovato lo zaino adesso, eh. Ecc, flatten. Ecc, flatten. Ehm. Vabbè, è un gigabit, dai. Ho trovato lo zaino adesso, io. Buono. Let's go. Sì, dov'è? Guarda qua. Oh, c'è Kino davanti a voi, c'è Kino davanti a voi. Eh, mi devo scudare, eh. Ma dai, non è possibile. Buono. Allora. Arrivo. Wait, wait, for your friend. Ci sono. No, no. Il vecchio è Kino che ci sparava qua. No, lo so. No, qua. Tutto. Non è indichissima. Ma non c'è, shit. Mo, mi raccomando, non pusha da solo. No. No, non c'è, shit. No, non c'è, shit. No, non c'è. No, non c'è. manco andiamo al prossimo edificio ci cominciamo a posizionare ci avrusceranno come maiale a noi quasi 300 colpi energetici mi serviva solo il turbo compressore ragazzi quello fanno di qualcuno fatti qualcuno uno in fondo vede no no destra di fuori destra si sparano la porta qua cerca di non aprirla perchè faccio così guarda e la blocca camperemo un attimo? si si vediamo la prossima zona è un zaino viola davvero anche il kit medico via c'è stanno le trappole la maggior parte è messa ovunque non ricordo quante trappole puoi mettere poi ci pariscono le altre prima esco un passo con due quattro sei trappole non stanno fai tanto andiamo davanti a noi si si faimi riposare fiii abbiamo fatto quanti cazzo i team erano eh non si spostare la porta e la porta per il trip ok? ok, devi spostare la porta o no? si 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 dietro no dietro no non so se possono più entrare Abbiamo questo Davanti vedi, non c'è qualcosa No, no, zero Sono lontani, stanno sulle montagne Ok, stanno fightando Sono due team, stanno fightando tra di loro Sono due team, fight Andiamo a misura Non so dove è, non so la posizione Sinistra no, dentro il casotto no Ah, va Ok, sì, sì Uno sul tetto, capito? Occhio eh Uno qua i nobel Uno qua i nobel Ho un HP 1 HP 1 Ok, c'è uno qua close E' una squadra sopra Con i cecchini Ma se becchiamo Ah, non possiamo andare lì Eh, guarda la set 2, ti chiudo? Sì, sì, sì C'è uno qua sotto No, c'è uno qua No, c'è che sono quelli là Sto capri con i cecchini Dove è bello? Mi va Sto capri con i cecchi Sì, tranquilla, tranquilla Sì, tranquilla C'è quello là sul tetto qua Abbiamo cercato di becarre meno danni possibile Sì C'è qualche colpo Ah lo distruggeteli Non so se scendono Pusci Siamo a pucciare Guarda One down GG Occhio 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 quelli dall'alto Non ho nessuno Non ho nessuno Sì Sì Ultimate Un up Craccato questo È solo io Becco Oh è qua davanti a me Arrivo Vai 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 ce li facciamo GG Easy GG Bella bella sta panca Siete i campioni Apex Porco zio Non so come vi ha fatto a salvarci in alcuni momenti Vamos Quanti danni abbiamo afflitto? Porco zio Mamma mia Mamma mia